Buongiorno dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Nicola Giannattasio. Traffico regolare su tutta la rete stradale ed autostradale della regione toscana. Sulla statale 1 Aurelia, riduzione di carreggiata per il ripristino di un incidente avvenuto tra Grosseto Est e Fonte Blanda in direzione Roma. Sulla statale 3 Vis Tiberina, riduzione di carreggiata per fondo dissestato tra Madonnuccia Poggiolino e Sansepolcro Nord. Sulla statale 12 della Betone e del Brennero, senso unico alternato per una frana tra Popiglio e la Lima. I traghetti, l'aliscafo Toremar, Piombino Cavo delle 8.40 è stato cancellato. A Firenze, per i lavori della tramvia, ricordiamo che da domani si sposta il cantiere in viale Belfiore. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!